Nel laboratorio di analisi scrittura radiofonica, come peraltro in quello di analisi scrittura videofilmica, noi utilizzeremo quelle conoscenze e competenze che vi sono state trasmesse nello sportello di familiarizzazione dei laboratori, che di fatto non erano che la prima parte del laboratorio, soprattutto quelle relativamente ai codici del linguaggio radiofonico, infatti in questa parte online del laboratorio noi andremo a ideare, progettare, scrivere un canovaccio sceneggiatura di un testo radiofonico, di una trasmissione radiofonica, una trasmissione radiofonica che dovrà durare un'ora e trenta e che ovviamente una volta delineata la tematica e una volta costruito collaborativamente il testo del progetto radiofonico che andremo a realizzare, realizzerete in parti per gruppi o individualmente. Si tratta di un lavoro che a differenza di quello legato alla realizzazione di un videofilm, in parte realizzerete per conto vostro in gruppo o singolarmente, questo perché i file mp3 che noi utilizzeremo e che andremo poi a montare in una trasmissione completa di un'ora e trenta, possono essere facilmente scambiati e non hanno un peso in termini di megabyte tali da impedire o da rendere difficoltosa lo scambio comunicativo di quello che andiamo a costruire, di quello che andiamo a ricercare, di quello che andiamo ad individuare, di quello che andiamo a realizzare di persona. Per quanto riguarda il contesto operativo in cui ci muoviamo nell'ambito del laboratorio di analisi e scrittura videofilmica, è un contesto molto particolare. Come corso di laurea, come insegnamento laboratoriale, abbiamo un rapporto privilegiato con una radio libera, una delle ultime radio libere che ancora trasmettono, che trasmette a Padova, si chiama radio cooperativa e questa radio trasmette anche online. Non ha ancora una grande capacità di trasmissione in contemporanea a più persone, però ci sono delle trasmissioni che potremmo considerare sperimentali e gestite in maniera come accade molto spesso nell'ambito delle radio libere, delle cooperative che portano avanti questo tipo di comunicazioni. Proprio grazie a questo rapporto privilegiato con radio cooperativa, la trasmissione che andrete a realizzare, che andremo a realizzare, verrà poi trasmessa una domenica mattina nell'ambito della trasmissione di Spettacolo in Cultura. Il titolo della trasmissione ovviamente non deve condizionarvi minimamente nella scelta della tematica, perché di fatto di Spettacolo in Cultura diventerà il contenitore della vostra trasmissione, della vostra proposta radiofonica. La vostra proposta radiofonica, la vostra trasmissione pilota, la vostra trasmissione sperimentale sarà probabilmente introdotta da alcuni docenti del corso di laurea in media o da studiosi intellettuali che si occupano di comunicazione visiva e audiovisiva nell'ambito padovano. A loro ovviamente sarà fatta pre-ascoltare la vostra trasmissione e ovviamente queste persone rifletteranno criticamente per introdurla. Io crediamo, credo che porsi l'obiettivo di farsi effettivamente ascoltare da dei radioascoltatori possa rendere più significativo, più importante il percorso di realizzazione del testo radiofonico che andrete a progettare e poi andrete effettivamente a realizzare. Dopo la fase di comune di ideazione della tematica da affrontare, delle modalità con cui si vorranno affrontare, si passerà alla fase della costruzione di una sceneggiatura, trattino canovaccio, della vostra trasmissione radiofonica. Anche nel caso della scrittura di una sceneggiatura radiofonica si tratta di una modalità di scrittura particolare e specifica. Non ha però quella codificazione, quella costruzione così definita come a la sceneggiatura di un testo videofilmico. Non ci sono quindi delle regole così definite per strutturare, scrivere una sceneggiatura di un testo radiofonico. Il testo radiofonico che voi andrete a pre-progettare sulla carta sarà un testo a prevalenza di parlato, una sorta di documentario radiofonico o di indagine inchiesta radiofonica. Questo ovviamente non esclude che vi siano degli inserti musicali o che sotto la lettura di alcuni testi da voi scritti o da voi recuperati non vi sia la possibilità di inserire un sottofondo musicale. Sicuramente però vi sarà una prevalenza di parlato. Radio cooperativa infatti è una radio cosiddetta di parola e che utilizza quindi prevalentemente la parola rispetto alla musica e quindi noi rispetteremo il contesto della tipologia di flusso radiofonico offerto da questa radio. Per quanto riguarda poi la sceneggiatura sarà scritta collaborativamente attraverso un'area wiki appositamente aperta per voi. A differenza, lo abbiamo già detto nella fase introduttiva, ma è bene ripeterlo, a differenza del percorso laboratorio di analisi e scrittura radiofonica, in questo caso potremo anticipare la raccolta di suoni, musiche, di testi verbali da voi letti e registrati, eventualmente di interviste che andrete a realizzare in modo tale che nella fase in presenza, nella parte finale in presenza, dovremo soltanto assemblare queste diverse porzioni di testo.